Dimensione Italia punto net la radio della musica e dell'informazione E cosa vuoi parlare oggi con Monica Torrielli? Dai! Oh! Con Monica Torrielli potremmo parlare! Senso e doppio senso? No, non si può! Siamo in fascia protetta! Abbiamo sempre detto che dovremmo fare un notturno ma prima o poi ci lavoriamo ora et labora! Esatto! Anche se saremo secondo me un po' trattenuti ci dovremmo trattenere perché dietro la parte del vetro ci cazzeranno! Ma no! Ma guarda che noi abbiamo massima libertà massima libertà di manovra dopo mezzanotte in cara Monica! Allora gli sponsor non pagano più! I 3-4 milioni a testa che ci danno quelli di sponsor forti non ascoltano! Quindi noi possiamo andare! Possiamo andare! Sì! Una volta le radio alle 20 finivano la programmazione no? Perché quello che sganciava la pubblicità dopo le 8 non gli spiegava più niente! Invece no! Adesso la notte è forte! Dobbiamo trovare tipo quella cosa di materassi! Ora sento questa canzone! Proprio ti voglio fare una domanda un po' piccantata! Madonna guarda! Vado a studiare!